Il fatto che ti citavi proprio questo, perciò mi sembrava doveroso far ascoltare questa. Perciò passiamo da una canzone nuova, ma anche una canzone storica appunto, di Don Bacchi. Molto bella Punta Serenata, io ti ringrazio tantissimo, comunque, in bocca al lupo per questo libro, comunque sicuramente questo cortocircuito con Radio Roma non esiste, comunque sicuramente, questo cortocircuito mediatico, comunque, sembra un ottimo feeling mediatico, sicuramente, ma anche amicale, perché è una persona sicuramente squisita da Gnastima. E poi a ottobre verrò lì in studio e staremo insieme per il paio d'ore. Va benissimo, io ti ringrazio, so che domani sera è una bella serata, stai continuando questa tournée molto intensa, ecco. Sì, fortunatamente non mancano le serate. Bene, ti ringrazio di nuovo e nel lasciarci ci ascoltiamo appunto Serenata. Grazie appunto a Don Bacchi. E ricordatevi, il titolo è Questa è la storia, perché magari qualcuno l'ha dimenticato. Bene, questa è la storia appunto da Don Bacchi, grazie mille, benvenuto e grazie per essere stato con noi. Dico, salutiamo appunto Don Bacchi e questa, salutiamo Don Bacchi appunto con cui ha pubblicato questo libro, Questa è la storia di cui abbiamo parlato e la linea passa appunto alla regia per ascoltarci prima la pubblicità, naturalmente, e poi dalla storia proprio della musicale di Don Bacchi, appunto questa bellissima canzone di cui abbiamo parlato prima, appunto Serenata. State ascoltando Radio Roma. Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. Grazie mille, grazie mille.